Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video come vi avevo detto in precedenza ci sarebbe stata la possibilità di inserire nuovi giochi nei miei video uno di questi è appunto MLB14 The Show vedo che in Italia non lo sta cagando quasi nessuno perché il baseball appunto è un gioco che non piace a tutti a me piace molto e ho deciso di fare appunto una carriera con il nostro personaggio assolutamente fighissimo allora quindi road to the show new c'è la possibilità di fare la carriera con un giocatore dell'MLB o personalizzato ovviamente noi lo faremo personalizzato faremo una seconda base che tira ovviamente di destro diamo possibilità al contact al power e magari un pochino aumentiamo anche il fielding la potenza del braccio e la velocità le aumenteremo più avanti per adesso quello che è importante è appunto avere contatto con la pallina appunto essere bravi a prendere la pallina con la mazza colpirla e appunto nella potenza il fielding sarebbe diciamo le abilità difensive cioè come ci muoviamo in campo difensivamente andiamo avanti facciamo est e qui comincia la creazione del personaggio ovviamente non vi faccio vedere tutta la creazione perché è una cosa abbastanza lunga visto che il giocatore può essere personalizzato veramente in qualsiasi cosa dai capelli la barba i polsini proprio quasi come NBA ovviamente qua magari non ci sono i tatuaggi però è veramente personalizzabile al massimo quindi ci vediamo appena finisco per vedere cosa succede dopo aver creato il nostro personaggio eccoci qui all'inizio della carriera ovviamente ho fatto un giocatore abbastanza normale non ho voluto personalizzare più di tanto quindi non sono stato lì a fare un figaccione assoluto però io ho messo la barbetta e il pizzetto come ce l'ho io adesso ho cercato di fare la capigliatura il più possibile simile alla mia anche se devo dire che non c'era moltissima scelta sul capelli quindi adesso quello che dobbiamo fare è cominciare essere scelti e poi arrivare fino all'MLB draft quindi avanziamo ed eccoci qui nella nostra schermata principale da dove praticamente gestiremo tutto e c'è ovviamente anche la possibilità di personalizzare il giocatore anche più avanti quindi potremo cambiare praticamente di nuovo tutto tranne la posizione in campo c'è la possibilità di allenarci già 500 training point quindi piazziamoli io direi sul contact sul power e voi direte perché stai facendo tutti quelli di destra perché è più probabile trovare un destro quindi direi di aumentare appunto queste cose qua direi soprattutto il contact e poi magari cerchiamo di aumentare un pochino la velocità che vedo che è abbastanza scarsettina quindi siamo a 45 in velocità siamo pronti per accettare queste modifiche e andare alla prima partita ed eccoci qui a una specie di allenamento prima della partita vediamo un po' come siamo messi che spazzata ragazzi fuori campo fuori campo al primo tentativo peccato che sia un allenamento di merda quindi noi faremo parte dei rookie dell'est quindi giocheremo per i giovincelli dell'est per far vedere appunto di che pasta siamo fatti e farci scegliere dalle migliori squadre della Major League Baseball ovviamente io essendo diciamo che mi piace a me la Major League quindi seguo un po' di squadre soprattutto i Cleveland Indians che è una delle mie squadre preferite non so perché forse per i film che avevano fatto con Charlie Sheen se non l'avete mai visti andateli a vedere perché sono divertentissimi e credo che si intitolino Major League Baseball la squadra più scassata della Lega ragazzi andateli a vedere perché c'è persino l'1 e il 2 e sono veramente dei film divertentissimi che fanno morire da ridere parlano soprattutto del baseball e grazie a quei film li riuscirete a capire un po' come funziona anche a divertirvi in questo sport che non è molto amato ma che secondo me è divertente ed è veramente bello secondo me ed eccoci qui alla prima partita dell'Est contro credo contro il Central quindi saranno Central i giocatori i rookie dell'America centrale contro i rookie dell'America dell'Est e io ovviamente faccio parte dell'America dell'Est guardate che figo il mio giocatore è proprio lì quello lì davanti alla coach grandissimi ragazzi grandissimi il pubblico veramente sono quattro gatti per la partita dei rookie però fa niente eccomi lì sotto seconda base ragazzi io ho sempre fatto in shortstop praticamente il ruolo con lì con le 2S ma quest'anno ho voluto cambiare un pochino facendo la seconda base ecco i due pitcher che sono i due lanciatori magari anche grazie ai miei video riuscirete a capire un po' come è questo sport piano piano magari vi spiegherò con i vari video com'è e appunto vedremo insieme non ci sarà tutta la partita questa è un'altra cosa abbastanza positiva cioè noi verremo fuori soltanto quando toccherà a noi come potete vedere a destra c'è la mazza da baseball che ci fa capire appunto quando sarà il nostro turno e in più andremo in campo per difendere solo quando ci sarà una situazione dove noi entreremo a far parte della difesa ma intanto credo di essere già la battuta ai 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 ragazzi ale miracle numero 23 210 libri 18 anni guardate che potenza fisico un po' da birretta ma non importa non ho ancora quella panza importante guardate il catcher eh amica vediamo cosa sai fare allora qui posso scegliere di vedere appunto cercare di indovinare dove lui la lancerà ed effettivamente il primo strike ho fatto cagare in maniera assoluta allora come potete vedere ehm ci sono due giocatori nelle basi quindi io ho un ruolo importante in questa cosa qua o cerco di fare un fuoricampo o faccio schifo ai polli adesso riproviamo vediamo un attimino questo lancio porca puzzola è fallo ragazzi perché oltre la riga dietro di me se la pallina va fuori è fallo quindi sto facendo veramente cagare come inizio di carriera vediamo un attimino cosa può succedere in questa occasione altro lancio stavolta la colpisco ed è anche validissima ed è anche validissima fanno la cazzata corriamo la seconda base grandissimi ragazzi non me l'aspettavo come inizio di partita e di carriera non mi aspettavo sicuramente una doppia base infatti great at bat ho guadagnato due basi ragazzi e in più ho fatto fare due punti guardate qui subito la schermata per me Ale Miracle bam guardate che figo il mio giocatore è subito in una zona guardate il difensore non è riuscito a pre... uh 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 si è pure caduto cazzo si è spaccato la faccia per prendere la mia pallina adesso è Robby Gerber o Gerber come cacchio lo volete chiamare alla battuta allora io adesso non mi sposto perché in teoria potrei fare dei passettini verso destra ma non voglio assolutamente rischiare di essere eliminato vorrei provare ad arrivare a casa base immediatamente il primo è strike ecco qua Miracle che si sposta devo personalizzarlo mino un po' più devo farlo un po' più figo in quanto a vestitini altro strike ma cos'è che sta succedendo dai colpiscila se no io non riesco ad arrivare a casa base amico l'arbitro intanto a pecora davanti a me non è giusto questo questo è ball però eh infatti è ball allora se ci sono tre strike il nostro battitore è eliminato invece se ci sono dei ball quindi praticamente dove il lanciatore lancia fuori dalla zona di battuta e il nostro giocatore non riesce a colpire la pallina con la mazza sono dei ball e credo che al quarto ball ci sierà il walking cioè praticamente il giocatore può andare in prima base perché sono stati fatti troppi ball e infatti siamo a due strike e due ball io cerco di spostarmi ma qua vedo sempre il culetto dell'arbitro e nient'altro è una cosa abbastanza schifosa vediamo la battuta abbastanza alta sembra un fuori campo mi fermo e infatti l'ha presa al volo siccome erano già stati eliminati due giocatori lui l'ha presa al volo ha eliminato il giocatore quindi ha eliminato tutti perché ora tocca a loro attaccare ogni volta che vengono eliminati tre giocatori quindi tre out si passa al cambio turno grandissimo per la prima battuta ho già fatto un double base ho guadagnato due basi guarda come mi preparo in maniera figheggiante e questo è un destro scusate è un mancino quindi io nel mancino non ho aumentato moltissimo le statistiche contro i mancini che strike di merda questo potevo capirlo che era un ball era completamente fuori vabbè stiamo tranquilli non facciamoci nervosire forse ho azzeccato la zona peccato troppo in ritardo avevo azzeccato la zona di lancio perché come potete vedere adesso vi faccio vedere c'è un triangolino bianco guardate vedete questo triangolo sono io che lo muovo e io cerco praticamente sto un po' tirando a indovinare su dove lui potrebbe tirare se la zona è giusta è stata bellissima questa pattuta e questo è un fuoricampo azzeccatissimo e invece no me l'ha presa al volo che schifo di merda e vabbè dai comunque mi ha dato good at bad perché praticamente il contatto con la palla è stato comunque buono peccato perché è stato un fail credevamo tutti nel fuoricampo ma niente da fare andiamo alla prossima giocata finalmente me la gioco difensivamente ragazzi è la prima volta che gioco da seconda base ero abituato a fare lo shortstop oppure il right fielder e questa volta mi ritrovo in seconda base vediamo un attimino come me la difendo eccomi qua spero assolutamente di non fare cagate ragazzi o faccio una doppia eliminazione qui chissà che cazzo che opportunità avrò e non ho l'opportunità di fare una serie e forse si no di un pelo non ho fatto una doppia eliminazione ne ho eliminato solo uno peccato dovevo essere più reattivo e più veloce ma tocca di nuovo a me battere alle miracle una su due perché appunto una me l'hanno presa al volo e quindi è come se non fosse valida nelle basi non c'è nessuno e quindi preferirei guadagnare una base al posto di tentare un fuoricampo o cose del genere e invece non ho guadagnato una sega porca puzzola mannaggia devo stare più attento questo è un pur at bat quindi vuol dire schifosino alla battuta peccato peccato veramente il lanciatore qui mi ha fregato ma è finita qui la prima partita come vi dicevo appunto le partite durano veramente poco vediamo il mister cosa cosa dice ah mi stringi la mano ho detto che ho fatto bene comunque non è stata una una brutta prova diciamo e finisce qui con la nostra vittoria ragazzuoli ha vinto l'est come potete vedere c'è scritto west prospect e east prospect praticamente sono i prospetti diciamo i giovani in prospettiva che verranno scelti nell'mlb draft gli scout sono abbastanza impressionati da quello che ho fatto quindi diciamo che anche se nelle ultime no però su tre battute effettivamente ne ho fatta una con due basi la quella centrale la seconda mi è andata bene solo che me l'hanno presa al volo quindi mi avevano dato comunque un bel voto nella terza invece ho sbagliato quindi su tre diciamo che ne ho fatta abbastanza bene due e quindi gli scout sono abbastanza impressionati devo continuare così anche nelle prossime partite dove saremo sotto gli occhi degli scout eccoci tornati qui alla schermata infatti ho una percentuale di 333 quindi del praticamente del del 333% e non è assolutamente male come inizio allora ragazzi il video finisce qui vi ricordo come al solito di commentare di mettere un bel mi piace ditemi se vi potrebbe piacere questa serie ci vediamo al prossimo video mi raccomando se non l'avete fatto ancora iscrivetevi e commentate commentations ok ciao e al prossimo video con la carriera di Ale Miracle